Ehi Chris, a quanto pare non ti entravano i colpi. Nove danno con un pompa, che disdetta. Ma aspetta, tu chi saresti? Io sono Gesù. Ma Gesù non aveva la barba e i capelli lunghi? Sono passati 2019 anni, caro. Avrò anche il diritto di cambiare stile. Si vede che non capisci una mazza. Ora va di moda questo cappellino da 50 centesimi. Ah, ok. Comunque, prima di determinare il tuo destino, vediamo quello che hai combinato in vita. Ah, vedo che hai ucciso 1456 persone. Non va bene. Hai ballato davanti a 738 nemici a terra. Hai usato la skin di default per fingerti un no skin per una settimana intera di fila. Non rianimavi i compagni nelle 50 contro 50. Non va bene, Chris, non va bene. Ah, ma c'è scritto qui che usi il codice OctiPFI come supporto a un creatore nello shop. Allora è tutto perdonato. A quanto pare, quindi, non andrai all'inferno. Credimi, non è un bel posto. Non vorresti trovarti nei panni di quel tipo. Non sei iscritto al canale di Pura Fibra Italiana e non ha nemmeno attivato la campanella. Davvero terribile. Comunque, divertiti in paradiso. Ciao! 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 Grazie a tutti.